Ulican Zombie Apocalypse Buongiorno a tutti Allora Oggi è 30 minuti Buongiorno Iniziamo anche oggi Ho preso come provvista Dell'olio De Sante Terre Aspetta Terre Fertile De Sante Extravergine Tre quarti Questo è Tre quarti solo Ma questo olio sta Aumentando giorno per giorno E l'ho pagato 6,69 Poi Cioccolatino Ferrero Per Melania Buono Questa Tinde buono 99 centesimi Poi mozzarella Arborea Qui ce n'è Tre pezzi Aspetta Quanto ce n'è? Tre pezzi da 100 Quindi sono 300 grammi Ed ecco Gli sconti 3,59 euro Poi c'è Questo Intimo Non so come sarà Comunque Non è neanche a buon prezzo 2,59 euro Ce n'è di contenuto Contenuto 200 250 ml Poi c'è Pasta di zella Scontata 69 No 89 centesimi Pasta di zella Caffè suerte L'ho preso di provvista Però è carissimo Anche questo In carico Ce ne sono Due Cioè Mezzo chilo Di totale Di questo 4,69 Lo tengo sempre Come provvista In carico Poi c'è Formaggio pod Classico Questo è Questo è Da pecore E' da mischiato E' buono Formaggio misto Stagionato Pod Pesote Sparta A 14 A 90 Al chilo Questo Ha pesato 14 A E' a 14 90 Al chilo Ha pesato 290 grammi Totale 4 E' 32 Comunque Dello cariccio Tonno Questi sono Tonno Monstromo All'olio D'oliva Sono 3 Da 70 Grammi Ognuno Quindi Con lo sconto 2 euro E 69 Mi pare Una cosa Poi Panna Panna Spray Tre Non so neanche Come sarà Io l'ho già Sto già Piace Amerani A questa Uno spruzzo Nel Paffè Altra Costi Alta 2 Ero 75 Questa Su Non arriverà Neanche A un euro Però Andare Lì È Troppo Lontano L'euro Ancora Pasta Di Vella Desso Chilo 86 C'è In Pesce La Questa La Questa Buona E Mostrano Sì 2 Eure 19 Ok Il Totale Complessità Le 30 Euro Virgola 14 Benissimo Buongiorno A tutti Buona Spesa Ognuno Cerca Di Resparmi Anche Le Risparmi Sono È Tutto Troppo Caro E Ne Profitta Buongiorno A tutti Arrivederci Buona Vita A Tutte Unicor Zombie Apocalypse Co L� though A A A Ciao